ciao a tutti ragazzi io e piccettino siamo qui stasera per portarvi a fare un bel giro nel terzo volume dei racconti dal derry length di casa bugs dell'universo samuel stern terzo volume cosa posso dirvi bel volume davvero bel volume 128 pagine 14 artisti impegnati tra sceneggiatori e disegnatori 10 storie che volete di più dalla vita ragazzi da partire dal 7 maggio è apparso in edicola e piccola problematica che è uscita prezzo 6 euro e 30 il che significa 80 centesimi in più del suo predecessore è tanto è poco allora presa come cifra singola sul totale non è poco assolutamente non è poco però per il formato la quantità di pagine insomma per il packing mero nudo e crudo 6 euro e 30 è più o meno il suo prezzo insomma fosse costato 10 euro forse non era così consigliabile però in edicola a 6 euro e 30 in questo formato così ben così ben fatto così ben paginato in bianco e nero bonellide ci sta diciamo che ancora è un prezzo ancora a fuoco niente di niente di diciamo che ci porti a strapparci le vesti dicendo 80 centesimi non è poco ma non è nemmeno così fuori fuoco ripeto che comunque è una pubblicazione annuale una pubblicazione che non è necessaria per capire il mondo di samuel stern è un contenitore che ha anche una macro storia però che funziona da sola a sé stante quindi se anche siete fan di sam e basta questo potete anche saltarlo sul prezzo vi sembra troppo quindi nulla di obbligo all'acquisto non ce n'è ora però andiamo a conoscere un po meglio questo simpatico racconti del derling numero 3 e lo facciamo con la copertina copertina di fernando proietti ed è una copertina che si ispira ad una delle storie contenute ed è veramente inquietante cioè è una copertina che ti lascia bello stranito bello basito una copertina da easy comics quelle belle creepy di una volta no con questa cosa inquietante di suo ma comunque fanni perché vediamo le zucche di halloween quindi capiamo che siamo in quella festività questa fatina azzurra tanto carina tanto bambina e il capoccione mutilato è una copertina canonicamente esagerata già vista in altri mille salse ma che ha sempre il suo impatto e quindi davvero mi piace perché nel panorama edicola da un piccolo tocco di creepy che non guasta e secondo me ci sta attira abbastanza l'occhio certo ho visto qualche scena che non pensavo di vedere in edicola l'ho vista all'edicola della stazione di rogoredo di qualcuno che vediamo cos'è poi ha visto sta roba no ma che schifo l'ha messo giù cioè quindi va bene potrebbe anche essere una cosa positiva dovuta all'impatto della copertina però ci tenevo a raccontarvi questo piccolo aneddoto per il resto bella bella ci sta colpisce l'occhio e ti dà un'idea di contenitore horror più di così c'è poco da fare fa il suo egregio mestiere di copertina mi piacciono un sacco le costine del nei racconti dal daryland per la lavorazione per la cura per i titoletti delle varie storie cioè davvero c'è una cura del dettaglio che difficilmente pensi di trovare in edicola ma qui la fanno mi piace tantissimo retro di copertina ovviamente pubblicità sul materiale di samuel sterna che deve uscire e basta è l'unica pubblicità che abbiamo a parte la canonica di qua di terza di copertina sullo shop online della max quindi bello niente niente cose strane abbiamo una piccola presentazione dell'onnipresente gianmarco fumassoli che ci sta è sempre molto bella e ci introduce un po' a quello che sono il daryland ci racconta un po' di cosettine appena appena accennate insomma è una piccola introduzione che uno può leggere in qualunque punto può anche leggerla alla fine non ci sono problemi insomma questo è il pacchettone esterno adesso però si entra all'interno dei disegni beh ragazzi come avete avuto modo di leggere c'è veramente la metà di un milione coinvolte in questo volume quindi ho fatto un riassuntone unico in una singola schermata di tutti gli autori disegnatori sceneggiatori coinvolti perché davvero è un un carnet di persone veramente di artisti davvero nutrito quindi preferisco che vi leggiate così e adesso parliamo un po' di quello che troviamo dentro beh troviamo sicuramente la storia principale ad opera di federico perrone che fa anche la storia la storia di conclusione quindi abbiamo un doppio perrone come al solito sono storie riciclate dalla collana mostri anzi una mi sa che deriva anche dall'altra che era alieni quindi sono tutte storie già edite da bugs in formato cartonato da libreria e da fumetteria che però non hanno avuto quell'enorme diffusione quindi per molti di voi e me compreso sono totalmente inedite quindi abbiamo tutto questo il caravan serraglio solito di purpurridi di persone personaggi situazioni tutte con uno stile caratteristico reale e canonico e molto divertente quindi abbiamo tutti gli autori coinvolti che buttano il loro stile nel nel volerci raccontare queste singole storie prese a sé stanti che vanno da storie moderne storie nel vecchio west horror totali puri horror un po meno canonici insomma trovate un po di tutto fatto con gusto e stile quindi aprendo l'albo sicuramente avrete in mano avrete un impatto visivo che come potete vedere dalle tavole che scorrono davvero non vi deluderà vi lascerà abbastanza soddisfatti magari ci sarà lo stile che vi piacerà un po di più quello che vi piacerà un po di meno ma sicuramente non resterete lì a dire mamma mia o meglio lo direte ma in senso positivo quindi bello da sfogliare e da gustare ovviamente a cottura bassa al sangue beh ragazzi la storia c'è la macro storia che è l'incontro del circolo le orla spero si pronunci così di angus e di degli appartenenti al circolo che ormai abbiamo imparato a conoscere con la partecipazione speciale di sam che starà in questa diciamo seduta del circolo il circolo è una chiacchierata in cui angus parla di vari racconti quindi il motore è angus che parla e ci racconta queste storie queste dieci storie che sono atanasius clat mon streaming caramelle per halloween skinny outpost 31 mister babau il terrore di john brigham ex macchina e la voce del padrone questi sono i racconti che ci racconta angus come se anche noi fossimo lì in questo circolo e intanto abbiamo una macro trama che va un po avanti abbiamo proprio diciamo lo sviluppo vediamo un tantino sharon la giovanetta del gruppo con la presenza di sam come si comporta vediamo anche rendi che è l'altro ragazzo e vediamo l'elemento da tenere d'occhio che la signora peabody non voglio dirvi troppo perché rischio di spoilerare c'è comunque una piccola evoluzione tassello dopo tassello di queste di questa macro trama che va avanti piano piano che ci racconta un po degli appartenenti di questo circolo sicuramente ciascuno di questi non è lì per caso perciò vedremo l'anno prossimo quali altre rivelazioni cosa ci sarà detto sappiate che comunque angus si dimostra come al solito un personaggio dalle mille sfaccettature dalle mille potenzialità tanto che riesce a mettere tranquillamente in secondo piano il nostro ospite d'onore che è samuel stern le storie invece sono storie slegate tra loro nel senso che ciascuna di esse potrebbe essere un singolo volumetto da leggere ovunque ma con un leitmotiv horror in alcuni momenti un po grottesco in altri momenti un po un po meno simpatico ma tutto legato all'horror ed è un horror abbastanza forte soprattutto caramelle per halloween mi ha dato abbastanza da diciamo da mi ha fatto abbastanza effetto tutti quelli che riguardano bambini quindi anche mister babau mi hanno lasciato abbastanza colpito in generale sono piccole storielle per stomaci forti per chi ha voglia di mettersi in gioco a leggere sane vecchie storie horror anche abbastanza splatterose che nulla hanno da invidiare le vecchie easy comics ma fatte con gusto quindi poche pagine gustosamente horror che incastonate in questo diciamo meccanismo dei racconti del Daryland quindi di Angus che ci racconta funzionano benissimo come intermezzo ecco è un bel gioco di costruzione proprio l'intera idea dei racconti dal Daryland ve lo consiglio beh se siete amanti dell'horror sì se siete amanti delle letture che che vi danno il brivido subito quindi che non dovete leggere 200 pagine per vedere l'intera storia trovare il punto il jumpscare di turno ma che volete qualcosa di più immediato questo va benissimo perché le storie sono di poche pagine l'una davvero ben confezionato ben fatto non serve avere una conoscenza dell'universo di samuel stern potete tranquillamente prenderlo e leggerlo senza senza problemi anche se qui samuel compare però i mezzi le idee per capire qualcosa ci sono senza senza dover andare a recuperarsi tutto samuel stern anche se ve lo consiglio di recuperarlo insomma è una pubblicazione che funziona molto molto bene tra l'altro stiamo andando verso il periodo caldo anzi guardando in questi ultimi giorni sembra piena estate quindi se andate a prendere il sole se volete mettervi lì a rilassarvi un po questa è una sicuramente lettura che vi fa vi accompagna in un pomeriggio vi accompagna in una tintarella fuori stagione o stagionale io vi consiglio davvero di provare a comprarla i racconti dal daryland sono confezionati bene e sono ben scritti uniche persone a cui posso non consigliarlo forse chi ha già le edizioni di mostri e di alieni in originale perché non troverebbe nulla di più se non la storia di raccordo che fa da contenitore però non so se da sola quella può valere l'esporso di 6 euro e 30 ecco lì valutate voi per tutti gli altri è per noi materiale inedito quindi sì da andare in edicola e spolparselo in allegria perciò racconti dal daryland terzo numero tre numero perfetto la congiunzione astrale dice andate in edicola